Mister, ci siamo lasciati sostanzialmente la scorsa settimana con tanti punti interrogativi, ora sono stati evidentemente risolti, quali sono stati i presupposti di questa ripartenza? Ma io negli altri anni ho preferito Teramo perché si poteva lavorare sul campo ed è la cosa che a me piace fare, ho calcolato se c'erano i presupposti per poter lavorare bene e per poter esprimere il mio pensiero, il mio progetto di calcio e pare che questo lo si possa fare quindi sono ben contento di cercare di lottare di nuovo per vincere, a me piace solo vincere e qui penso e spero che ci siano le possibilità per farlo. E con i giocatori dello scorso anno che erano già sotto contratto, che hanno fatto parte di quel gruppo, della Dionnarumma, più o meno sono rimasti tutti, è stata importante anche la presenza sua per aggregare questo gruppo di giocatori che è riducito da una derusione che peraltro ha attraversato anche lei? Ma è stato il motivo per cui, cioè non è la mia presenza, anche la loro presenza è stata fondamentale per me perché questi sono ragazzi eccezionali, io l'ho sempre detto da due anni a questa parte, ragazzi seri che lavorano settimanalmente, giornalmente sempre al massimo, sempre concentrati in campo, poi riusciamo a sviluppare tante belle cose quindi diciamo che è stata la molla che è scattata nella testa loro, nella testa mia per cercare di ripartire nel miglior modo possibile. Il campionato sarà lungo, ci saranno momenti di difficoltà, sarà difficile lavorare un po' sulla testa di questi giocatori che forse si sono ricaricati ma dovranno affrontare una stagione intera in un campionato che potrebbero non sentire loro perché pensavano di meritare altro, sarà importante lavorare proprio sulla testa di questi ragazzi? Ma noi dentro uno spogliatoio abbiamo già zerato perché in questo momento qua dobbiamo resettare tutto, dobbiamo dimenticare il passato, è inutile pensare eh ma l'anno scorso, eh ma qua, eh ma là perché sarà dura, sarà dura quest'anno però io penso che sempre uniti, compatti come abbiamo fatto qui a Teramo per due anni riusciamo ad ottenere anche l'impossibile. Grazie a tutti.